Mi vergogno di essere italiana quando sento queste cose e in tal senso noi ieri abbiamo appreso nei giorni scorsi dalla stampa, io non conoscevo questa situazione, l'ho appresa dalla stampa, abbiamo subito presentato un'interrogazione parlamentare sia al Ministro della Sanità che al Ministro della Giustizia. La cosa gravissima è che questa donna già nel 2012 era stata segnalata come una donna soggetta a delle problematiche psicologiche per cui questa donna doveva essere allontanata dal suo lavoro o comunque sia da quell'incarico preciso che è un incarico importantissimo in qualsiasi operazione e soprattutto da un reparto così delicato quale quello di pediatria, quindi in tal senso le responsabilità sono sicuramente maggiori e coinvolgono sicuramente più persone. È impensabile che il primario di quel reparto abbia tenuto per ben due anni una donna con queste difficoltà ad operare su persone, su esseri umani, questa cosa è inaccettabile in uno stato normale, in uno stato in cui si ha la tutela delle persone.